questa è l'esercito bene così perché? ahhh però queste qui dove le vado? qua? no come se altre gente però eh non lo vede però è uscito bene non lo vede grazie grazie credo di sì credo di no credo di sì credo di no vai vai che lei te la da fare vai che vai ma è sì lei te la da fare sto registrando grazie 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 ma è mio oh che mia